Il mancino dalla distanza di Chiricò, extra peste, cestistico per Zammarini, tempismo perfetto e 2-0 per il Catania. La montagna è ripidissima adesso per il Benevento. Si è accentrato Dubizkas, ha cercato Chiricò, tutto è da aspettare il mancino, imbucata geniale per Zammarini, freddo. Davanti a Paleari, la doppio del Catania. Primo gol in questo campionato per Roberto Zammarini, non poteva cominciare meglio il secondo tempo del Catania.